Questa. E che è? Ligovic. E questa è per te, papà? Ah, grazie. Ma è bianca? Allora, è acqua. Come grappa. Una grappa slava. Leggerina. Leggerina. So a 43 gradi. E all'ombra. Questa che è? No, questa qui me ha regalato una ragazza. Oh, di me la verità. Quante te ne sei fatte. In trasverta. Ma se ritengono i ritiro proprio... E fammene racconta' una. Quante ne hai castigate. Le hai fatte piangere tante. Adesso andate per là e magari ci preparate il caffè. Non ce l'ho il caffè. Allora ci preparate niente. No, non vuoi prepararla. Andate per che marchi è tra. E stanno così con tutto quello che si è fatto. Ma pensate solo a quello. E l'unica cosa bella della vita. Sì, sì. A parte Stalin. Siamo di razza buona. Ricordate che tu, nonno, lo chiamavano tre senza levà. Tre senza levà. Ma che vuol dire? Eh, sarebbe che lui, prima della terza, perché è stato uno cagliardo con le donne. E tu, papà, sei cagliardo pure tu. Ma io ho fatto un fioreto. Per rispetto da tua madre, la domenica è la sarto. Ogni modo.